Io sono Gino Sprecci, io voglio fare un video per dimostrarvi come si può dettare documenti a voce senza bisogno della tastiera. Si scrive sulla barra di google, voce, eccola qua, ricogniziamo, andiamo sul Vector, io l'ho già installata, quindi visite il sito web, è meglio che non vi complichi la vita, qua andate aggiungete Chrome, ok, e dove va ad installarsi, se avete Chrome, io l'ho già qua, eccola, apro, cancello un documento che ho, ricordarsi, guardate, mettere la barra di italiano, iniziamo la dittatura, Ciao, sono Gino e vorrei esservi utile per dimostrarvi come si può. dettare documenti a voce. Interrompo lo start. Adesso a questo punto io con il tasto destro potrei stamparlo il documento e non lo faccio, come vedete, l'annullo, oppure con il tasto destro con le mie estensioni potrei mandarlo a me stesso o a qualsiasi persona che mi interessa questo documento, me lo mando a me stesso, lo invio, vediamo se funziona, aspettiamo un po', quindi fa il click, andiamo a vedere sulla mia gmail, naturalmente, ecco è arrivata, 27 è questa, apriamo, eccolo qua il documento. Io non ho altro da dirvi, infatti è scritto, ciao sono Gino, vorrei esservi utile per dimostrarvi, vabbè, venire, si può dettare documenti a voce, più o meno va così, io ho finito, potrebbe anche interessarvi, chiudo, però prima vi mostro la mia faccina, ecco, chiaro, chiudo, ciao a tutti.